Ciao a tutti, sono Silvia Mezzanotte e sono qui per fare un appello per aiutare Davide. Davide è un ragazzo di Manduria di 23 anni che a causa di un incidente stradale in questo momento non sta bene. C'è in ato una raccolta fondi molto importante che ha già permesso di raccogliere tanti euro per permettere a Davide e alla sua famiglia di andare all'estero dove può affrontare cure sperimentali che possono permettere il suo risveglio. Avrei voluto poter partecipare di persona ma gli impegni non me lo consentono. Per questo motivo sono qui e sto facendo questo appello. So che i fondi si possono versare direttamente attraverso il sito della Voce di Manduria oppure acquistando il ticket per il concerto, per questo evento benefico. Io ne approfitto per fare a tutti quanti voi gli auguri di un sereno Natale e vi chiedo in questa occasione davvero di essere generosi. Fatelo per Davide. Grazie. Ciao.